E' una brava donna di casa. E' che mi è levata le mani. Non glielo vuole meno sempre. Se non si abitua. Una. Ma forte. Hai visto gli americani quanto sono belli? C'hanno tutti i denti. Ma tanti. Più di noi lo so. Tutti dovete schiattare. Perché mi piace sposare un signore e non un pezzente come voi. Ammiserabili. Se penso che quando non andrei non ci sarà più una donna di entrare a questa casa. Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che mi hanno imparato a scuola? Hanno fatto i felici. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quelli sono i finicotteri. L'uomo tu devi scegliere bene. Giulio è quello giusto? Ma non so, dimmo te. E tu sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devono andare più, Laura. E chi t'ha detto? Lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi. Sono i sordi tu. Ci sta la posta. È per voi. Pensa ai figli. Pensa a Marcella. E a prepararle che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come ho capito io? Deve non essere il tempo. Ma dove sei, Anna? Pure di Anna. No. 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 No.